Amici e amici di Volonbrite, siamo al Monviso Sporting Club in compagnia di... Mario Naselli Uno degli atleti che ha partecipato al torneo di tennis. Com'è andata questa partita? No, come risultato, ottimo risultato. La sono riuscita a portare a casa con un avversario che mi ha dato un po' di problemi durante la partita, però è stato un buon primo turno. Adesso mi sono riuscito a portare a casa con un avversario che mi ha dato un po' di problemi. La prossima sfida sarà piuttosto a testa di serie numero uno, un po' più ostico. Però per adesso possiamo ritenerci soddisfatti del risultato raggiunto? Assolutamente sì. Allora lo aspettiamo per la prossima intervista e grazie mille.